Giorno 364. Molti aggiornamenti di oggi vengono dalla direzione di Avdivka. Qui le forze russe continuano a spingere lungo tre assi d'attacco. Anche se i principali sviluppi sono avvenuti nella parte nord della regione, questo non significa che la parte sud sia caduta silente. Da un certo punto di vista questa direzione ha visto battaglie ancora più dure. Le tattiche di ucraini e russi sono completamente diverse da quelle usate a nord. Dopo che le forze russe hanno stabilito controllo sul Terricon, hanno cominciato a usare fanteria, non veicoli, come strumento principale per i loro assalti. La ragione dietro alla stenersi dall'usare equipaggiamento pesante è duplice, ma di tutto i russi non possono accumulare equipaggiamento pesante vicino al fronte e devono attraversare 10 chilometri per arrivare alla linea di contatto. In diversi casi questo è stato sufficiente perché gli operatori dronici ucraini individuassero e attaccassero le unità nemiche in avvicinamento. A un certo punto i rapporti sono arrivati a parlare di convogli che perdevano metà dei propri veicoli prima di arrivare a destinazione, il che ha posto enormi limiti all'equipaggiamento che i russi possono usare. Secondo, dopo che la linea di contatto si è spostata verso la ferrovia, il Terricon e il Bacino Idrico, usare i carri e corazzati è diventato più difficile a causa della geografia locale. Al momento, secondo i gruppi da ricognizione ucraini, i russi usano soltanto mezzi da trasporto truppe per portare la fanteria a Krasnorivka e una volta raggiunto il villaggio deve raggiungere la linea di contatto a piedi. La situazione nella parte sud della regione è completamente diversa e neanche un attacco viene effettuato senza il supporto di equipaggiamento pesante. Anche se i russi hanno a disposizione soltanto una strada per dispiegare le forze, questa via porta direttamente a Donetsk, rendendo solida la linea logistica. A parte stretti ponti dai quali è capitato che i mezzi cadessero, non ci sono ostacoli geografici ma soltanto campi aperti, il che però li espone ai droni ucraini. Ieri i combattenti ucraini della 53esima meccanizzata hanno rilasciato un video che mostra una colonna di almeno otto veicoli russi che viene individuata e bersagliata, riuscendo a malapena superare il villaggio di Vodianè. Come potete vedere la zona davanti all'insediamento è già un enorme cimitero d'equipaggiamento russo e questa colonna è stata meno fortunata delle altre in quanto non è neppure riuscita ad arrivarci. Ma gli ostacoli più grandi per le forze russe sono i campi minati. Anche superando la zona morta grazie alla nebbia mattutina arrivare alla seconda linea alberata è virtualmente impossibile. In più consapevoli che l'unica cosa che può minare le proprie difese sono gli equipaggiamenti da sminamento, gli ucraini li han resi il bersaglio primario. Video rilasciati dai soldati ucraini mostrano infatti diversi di questi equipaggiamenti che vengono distrutti dagli Aymars. Un soldato russo, prigioniero di guerra, ha comunicato dalla carenza di UR-77 e che quindi i russi utilizzano principalmente carri con dispositivi antimine. Ha anche detto di aver espresso le proprie preoccupazioni ai comandanti, in quanto a causa delle condizioni meteo i carri non sarebbero stati in grado di attraversare i campi e che stavano condannando l'unità d'assalto. Preoccupazioni ignorate e come predetto dal soldato il carro è rimasto impantanato nel fango e l'intera unità si è dovuta fermare all'aperto, venendo quasi completamente eliminata. Di recente i russi hanno ricominciato a usare veicoli suicidi. La tattica ha di nuovo mostrato la sua inutilità, essendo quasi impossibile per il veicolo il superare intatto i campi. E anche quando la sua detonazione riesce a sminare quel tratto, gli ucraini lo riminano immediatamente grazie alle munizioni RAM. In generale, basandosi sulle geolocalizzazioni degli ultimi mesi, è stato confermato che i russi non sono riusciti ad avanzare oltre la prima linea di alberi, catturata durante i primi giorni dell'offensiva. Se gli ucraini riescono a mantenere il livello di allerta e difesa che hanno al momento, i russi continueranno a rimanere bloccati. In apprezzamento del vostro continuo supporto, siamo lieti di annunciare gli sconti per il Black Friday. A momento potete godere di un sostanziale sconto sui nostri articoli più venduti. Se avete sempre voluto acquistare uno dei nostri prodotti ma il prezzo era un ostacolo, ora potreste avere l'occasione che cercavate. Come al solito, potete trovare il link in descrizione e vi do appuntamento al prossimo video.